Channel City incontra Fabio Tognon, server country manager Hewlett Packard Enterprise italiana. Quello dei server è un tassello fondamentale all'interno della estesa offerta di Hewlett Packard Enterprise, un'offerta storica e forse la più ampia di elementi, vediamola nelle sue linee principali. L'offerta dei server è sempre stata un pilastro fondamentale dell'offerta indirizzata al data center di Hewlett Packard Enterprise, una base installata molto importante da difendere, evoluzione del portfoglio classico e ben conosciuto ProLiant, quindi la famiglia di prodotti server x86 ben conosciuta, che poi si è ampliata nel corso degli anni in tutte le varie sfaccettature e declinazioni, quindi partiamo dalla classe midline, quindi i server tower, soprattutto nel mercato italiano, molto geografico distribuito, estremamente importante, i server rack ben conosciuti, basti pensare al DL380, la macchina più conosciuta e diffusa nelle information technology in Italia, ma non solo. L'offerta Blade, che compie quest'anno dieci anni di storia, per cui Blade, nati nel 2006, compiono dieci anni e saranno oggetto di un importante annuncio verso la fine di quest'anno, di cui parleremo magari tra un attimo. Iperconvergenza è un mercato, è un trend molto importante, su cui Yulepacan Enterprise ha riscosso notevoli successi anche in Italia. È un mercato in crescita, è sicuramente una scommessa che ci ha impattato e ci riguarda molto da vicino. E poi abbiamo tutta la famiglia dei prodotti Mission Critical, quindi Super Domix, piuttosto che Titanium, che restano sempre una parte del portfoglio centrale per i clienti che hanno necessità di avere alta affidabilità nel loro data center. Benissimo, mi hai anticipato. Il 2016 è un anno importante, l'anno di presentazione di lancio di Synergy. Vediamo qual è la carica innovativa di queste macchine. Carica innovativa è molto importante, che mette in discussione anche la nostra abilità di portare innovazione sul mercato. Dico nostra, intendendo sia la nostra Yulepacan Enterprise, ma anche del nostro canale. Viene stravolto il paradigma dell'Information Technology, in questo caso andando a portare sul mercato un importante tassello che va a coniugare una velocità di go-to-market, quindi di implementazione dei servizi, con l'esigenza dei nostri clienti di dover produrre e aggiornare applicazioni in tempo reale, addirittura overnight. Quindi questa sarà una scommessa molto importante, cambierà l'approccio che noi avremo di posizionamento dell'infrastruttura sul mercato, cambierà il dizionario, quindi le competenze che serviranno per poter dialogare con i nostri clienti e trasferire il valore di questa infrastruttura, vedrà comparire alla luce appunto alla fine di quest'anno, alla fine del 2016. Parliamo sì di infrastruttura, però quando l'infrastruttura si automatizza in questo modo è molto importante il tassello software che va ad abilitare questa automazione ed è per questo che il portfoglio appunto dei server Yulepacan Enterprise si amplia e si amplia rispetto ad un'offerta già consistente e molto importante di software di gestione e automazione, sia infrastrutturale che applicativo, OneView, che va appunto ad erogare e ad abilitare questa trasformazione molto importante che vede coinvolte sia l'ambito infrastrutturale che già ben conosciamo dai nostri clienti, con anche tutte le persone, quindi gli ambiti più applicativi che gestiscono l'applicazione dei nostri clienti. Abbiamo già più volte citato i partner, quanto sono strategici appunto nel portare questa proposizione così ampia e ricca di innovazione. Beh sicuramente per l'offerta server di Yulepacan Enterprise la componente di canale è fondamentale, il 70% dei volumi che facciamo in Italia viene venduta tramite canale, quindi per noi è un tassello fondamentale. Quest'anno è un anno di trasformazione del mercato, perché poi è il mercato che ci sta portando a questa trasformazione, quindi nuovi skill, coinvolgimenti in discussioni più tecnologiche che a volte, come già detto, si spostano da un ambito in cui possiamo definire un po' la nostra comfort zone infrastrutturale, ma si spingono verso anche dinamiche logiche di applicazione e di automazione. Quindi il ruolo del canale, il nostro ruolo anche di abilitazione verso il canale deve essere quello di essere tutti pronti nel cogliere questo importante momento di trasformazione per abilitare la digital transformation. Quindi abilitazione, formazione, quest'anno è un anno di formazione sia interno nostro in azienda sia del nostro canale. Stiamo investendo molto per supportare il nostro canale a portare sul territorio le tecnologie più innovative, quindi abbiamo parlato di il classico, quindi ProLiant, che fa la base appunto delle revenue che facciamo, ma anche e soprattutto i differenziatori, quindi l'iperconvergenza per noi e lo sarà ovviamente anche tutto il tassello di proposizione che abilita l'automazione, quindi OneView e soprattutto anche la parte synergy che avverrà alla fine di quest'anno. Iniziative specifiche per i partner, ce n'è una molto interessante che riguarda e coinvolge i partner, vediamola insieme. Sì, allora di iniziative ce ne sono diverse di coinvolgimento del nostro canale, una molto importante che serve a noi anche come vetrina un po' tecnologica sul territorio e per cui appunto è molto importante la collaborazione con il nostro canale, è l'iniziativa di Demolab, quindi l'abilitazione dei nostri canali a poter usufruire della nostra tecnologia e darne visione sul territorio direttamente coi propri clienti, quindi abilitare i nostri partner con la nostra tecnologia differenziante, quindi andiamo a puntare ovviamente l'attenzione su quello che abbiamo detto poco fa e dotare quindi i nostri rivenditori di questa tecnologia per poter fare in modo che i clienti possano testarla, vederla dal vivo, testare le proprie applicazioni e riuscire a mettercela a prova in un contesto che ci vede già pronti, quindi basta soltanto iniziare a parlarne e a mettere alla prova appunto la tecnologia sulle applicazioni specifiche dei nostri clienti. Grazie.